La partita più vergognosa del Napoli, da dieci anni a questa parte! Ma com'è possibile? Ma io dico, c'è sto Napoli, ma che è? Ma come fai a giocare così? Rammolliti! Rammolliti! Confusi! Ma che siete sbattuti con la testa tutti per terra? Ma non c'è nessuno che avesse un'idea! Ancellotti ci ha messo il suo, l'ha fatto di nuovo, l'ha fatto di nuovo, si è entrato in questo meccanismo cervellotico. Cioè, a un certo punto ci sono delle certezze. Il Napoli si sa che Calleone, prima di tutto, ha giocato, da 40 anni gioca, ogni volta e ogni partita. Ora dico io, ma perché questa è una partita importante? Abbiamo preso lo scudetto, vogliamo, almeno, volevamo andare un po' avanti in Coppa. Calleone è una garanzia, non lo puoi levare mai! Nessun allenatore l'ha levato, né Benitez, né Sacchi, eppure tu ti stavi convincendo e incomincia a levare a Calleone. Giochiamo con il regista e senza il regista, ma insomma, Amsic io non lo so in che condizioni sta, però dico io. Allora, o non sta buono, ma va bene, però, noi stiamo preoccupandoci se Amsic va in Cina o qua. Cioè, il Napoli non è in grado di giocare senza Amsic. Parliamoci chiaramente, domenica scorsa, cioè sabato, oggi, c'è il centrocampo, questa cosa che Mario, come si chiama, Fabian Ruiz può fare il regista? No, 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 non va bene, non va bene. È un giocatore, non va bene a fare il regista. Il regista è uno che nel momento in cui si, già vede, non vede mai a nessuno che si infila. Quello scatto ci mette mezz'ora, Fabian Ruiz. Poi è bravissimo in altre circostanze, in altre situazioni, ma questa cosa del regista non mi piace. Certamente la luce non c'è. Quindi se una squadra prima aveva la luce, aveva dei meccanismi, parliamoci chiaramente, qua viviamo in un mondo in cui praticamente uno fa due partite e diventa un mostro e non cambia più. I giornali, Milik, lo sappiamo che Milik fa così, è in grado di cacciare delle cose, ma non è una garanzia. Questo Napoli deve giocare, da quando lo conosciamo, con i piccolini, con Amsic al centro, con i piccolini. Insigne, sei una schifezza assoluta. Cioè, insigne, lui grazie al fatto che gioca nel Napoli con un tipo di squadra, di gioco, ma quando va in nazionale, va in un aborto. Ma perché? Perché lui ha delle... Insigne, è una cosa patetica. Quando ha da fare gli tigre che la cosa... non è possibile mai, non puoi fare affidamento sull'attacco con Insigne. Insigne è quello, il rifinitore. Solo, ed esclusivamente, un rifinitore che ha anche la caratteristica di tornare, di dare l'intelligente nel tornare, nel dare il contributo. Questo è importante perché gli ha reso la possibilità di essere sempre titolare, anche con Benitez, di avere un occhio di riguardo. Però, insigne, non sei in grado di inventarti una cosa. Fai un tiro che è sempre una musceria. Poi, improvvisamente, è in questi periodi che in gare si dire. Però, insigne, negativo. Insigne, quando fai così, non giochi neanche in Serie C. Ma il milicca al centrocampo, questa cosa di giocare con il milicca al centro, non va bene. Insigne lo devi mettere a, come quando giocavamo meglio, cioè a fare il centroavanti. Il centroavanti, come si dice, il falso nueve, con i piccolini che girano. A me sì che la... Quello è il Napoli. Però aveva almeno una fluidità di malovra. Creava occasioni. Mertes non si riconosce. Dunque, poi, andiamoci chiaramente. Il Napoli ha fatto schifissimo. Il Milan ha giocato bene, bisogna dire la verità, però ha fatto due di rapporto. Come l'ha fatto questi due di rapporto? Con due! Delle figure di niente assoluto e di due giocatori. Maximovic! Ma che stavo guardando? Ma che è? Non sei in grado di capire che quel pallone ti stava... Insomma, non lo so. Si è rimasto accettato dalle luci di San Siro. Koulibaly. E tu, oggi capito che Koulibaly... Chi è che non vuole bene a Koulibaly? Ma ricordatevi, nella mia opinione, che Koulibaly per me fu colpevole di non aver fatto vincere al Napoli lo Scudetto il primo anno di San Siro. Noi eravamo andati a Torino con... Eravamo andati a Torino con in vantaggio di punti. Abbiamo perso a pochi minuti. Giustamente queste cose la gente non ci riflette. Ma Koulibaly, quello lì fu un errore clamoroso. Fu uguale a questo qua che ha fatto oggi. Una posizione diversa. Cioè, fece girare a Zazza come se stesse a Luna Park. Ha fatto il giro, il giro tondo e ha fatto tirare a Zazza cinque minuti alla fine. Oggi ha fatto la stessa cosa. Sta là, che l'ha fatto il giro. Ora, chiaramente, Piondeck è diventato... è diventato... non lo so... il mostro dei centravanti. Ma, insomma, abbiamo regalato letteralmente due... due palle così. Una cosa vergognosa. Ver-go-gnosa. Napoli... allora... ha perso in tre giorni Scudetto e Coppa Italia. Ma c'è rimasta la Coppa dell'Europa League. Ora, dico io. Hai visto? Parlo. Noi giocavamo e giochiamo. Certi giocatori, poi sono scarsi, sono scarsi. È inutile che poi dell'Aurentis se ne viene che lui dice no, ma non faceva giocare. Avete visto? Rog, sono quattro anni, tre anni. Rog, fa schifo. Ha fatto buono. L'ha mandato in Spagna. Poi diceva quello non lo faceva giocare. Quello non lo fa schifo. non lo fa giocare. Insomma, non è che qua dobbiamo fare vedere. Ci sono delle certezze. Calleone deve giocare fino a quando non muore. Sul campo deve morire. Dopo che poi l'Aurentis lo fa giocare all'ultimo faceva il centrale difensivo e Maximo ci faceva il centravanti. Ci sono poi cose proprio fuori dal mondo. Ma Calleone deve sempre giocare. Amsic con tutte le caratteristiche e i problemi che può avere. Amsic è un giocatore che ti fa giocare comunque la squadra secondo le linee solite. Si trova con tutti i giocatori. Il centravanti fisso nel navo non va bene. Milik non va bene. C'ha ogni tanto delle grandi cose e siamo d'accordo. Non puoi fare riferimento su Milik. Oramai l'unica speranza è se vuoi far giocare a Insigne e di metterlo al centroavanti di manovra e fai giocare o Mertens una parte è nata a chi sta ma vedi pure pure verdi che insomma a questo punto eccetera anche perché ora si andranno per gli esperimenti si andrà per gli esperimenti perché che devi fare più ora c'è il rischio che con la Sampdoria cioè con la Sampdoria vedete di fare un partitone ma non so come lo fanno perché ora psicologicamente chissà oramai hanno perso l'entusiasmo e lo si vede ma dovrebbero fare un partitone perché dare un segno lottare se noi possiamo tutto il campionato fino a maggio così anche perché incominciamo a pensare all'Europa Liga la cosa vinciamo l'Europa ma chi dà i tanti che vinciamo l'Europa Liga che ci sono certe squadre ci sta il Chelsea di Sarri ma chi le dice queste cose comunque quello che conta è la prestazione prestazione la più negativa che sinceramente non ho mai visto una prestazione è possibile mai che il Napoli non è in grado di fare un gol con le sue caratteristiche ha messo scendo attaccando non è possibile quindi Ancellotti stai perdendo la testa ma vedi di ritrovarla per farci almeno con dignità continuare il campionato fai gli esperimenti fai giocare pure a quell'UNAS a quella no UNAS gioco come si chiama UNES ma insomma fai giocare a qualcuno perché e fallo giocare bene riprendi Calleona deve stare sempre là Calleona non si tocca è chiaro non si mette mai in panchina Calleona poi levi il centro avanti è inutile che stai giocare non funziona non funziona oppure fai giocare ad Amsic fai tornare a Amsic fai tornare a Amsic e catacchelizzali catacchelizzali come si dice basta arrivederci ciao a tutti